Luca Crecco, Pescara a gonfie vele in queste prime giornate, nella gara col Crotone c'è stato anche il tuo esordio nella gara meglio giocata dalla squadra in questo avvio di campionato. Sì, diciamo abbiamo fatto una gran prestazione contro il Crotone, abbiamo giocato bene, siamo stati compatti, non era una partita facile, siamo stati bravi anche dopo il gol subito, di andare subito in vantaggio, siamo partiti bene, cerchiamo di migliorare le cose negative e di continuare così. In una gara non facile come quella con i calabresi c'è stato un ottimo approccio di partita di Luca Crecco? Sì, diciamo era tanto che non giocavo, il mister mi ha messo dentro, mi ha detto di dare una mano sulla fascia al Cristiano che comunque stavano attaccando tanto, mi sono messo lì, ho cercato di dare il massimo in fase difensiva e ripartire quello che mi ha chiesto il mister, sono contento di essere tornato a giocare dopo tanti mesi di inattività. È una buona condizione, ovviamente vorresti giocare di più come tutti, c'è una guerrita concorrenza nel Pescara, però una sana rivalità, un bel ambiente nello spogliatoio. Sì, sì, l'ambiente è bellissimo, il gruppo, come ho detto già in passato, è un gruppo fantastico, siamo tutti bravi e sicuramente c'è concorrenza e meglio così. Si è arrivato a Pescara probabilmente con qualche anno di ritardo, perché anche qualche stagione fa, se non ricordo male, eri stato molto vicino al trasferimento in maglia bianca azzurra. Qual è l'obiettivo di Luca Crecco quest'anno con il Pescara in Serie B? Sì, tre anni fa dovevo venire già qui, dove poi non si è conclusa. L'obiettivo è sicuramente di far bene come stiamo facendo, siamo partiti bene, non molleremo e sicuramente di portare il Pescara in alto. Andiamo alla prossima partita, il posticipo di Padova, lunedì giocherete in casa di una squadra che nell'ultimo turno a Foggia ha sfiorato il risultato positivo, in vantaggio è stata poi sconfitta per 2-1, una gara difficile come tutte, il Padova è una squadra che gioca bene soprattutto in casa. Sì, non sarà una partita facile, loro giocano bene, ma la stiamo preparando bene, il mister la sta preparando nel migliore dei modi e andremo là per fare la nostra partita. È ancora presto per parlare di classifica, però sarebbe importante fare un risultato positivo per continuare a restare in alto. Sì, sicuramente continuare così fa far star bene sia noi, tutto il gruppo che la società. Sicuramente è appena iniziato il campionato quindi non possiamo parlare già di classifica, però più stiamo in alto meglio è.